Ciao ragazzi, bentrovati e benvenuti sul canale del coach. Sembra che ti sei interessato a tricipite e a pettorale? In chiave tabata? Allenamento in casa? A corpo libero? Benissimo. Allora, sei capitato sul video giusto. Ma se ti dicessi adesso sulla fiducia di darmi un mi piace, di iscriverti al canale? No, eh, non ti convinco. E allora lo farai dopo l'intro. Ci vediamo tra pochino. Dai, dai, dai! Ok, dai, via. Aiutala, aiutala. Ok, piccolo aiuto. Non oscillare troppo. Forza. Chiudi forte l'addome. Dai. Bene, ho un po' di più della tua fiducia. Spero di sì. Quindi, ragazzi, oggi vediamo in chiave tabata, quindi 20 secondi di esercizio e 10 di recupero, magari sulla traccia musicale te la lascio sotto, come fare pettorale e tricipite a casa, veramente mandandolo a fuoco. Ti assicuro che avrai veramente da sudare. Quindi sono 8 esercizi, quindi 20-10, 20-10. Ok, qualcuno di voi sicuramente conoscerà questo tabata. Basta andare a tempo di musica. Ricordatevi che ogni 8 esercizi c'è il tempo di un minuto da recuperare. Quindi, ok? Quindi questo è molto importante. Lo proviamo a fare per 4 giri completi. Sarà dura. Fidatevi, io l'ho già fatto, ma sarà durissima. Quindi, dai un'occhiata a questi esercizi, provate ad allenarti con il coach. Se hai qualche domanda cosa devi fare, mi iscrivi sotto. E in più, lascia un mi piace. O se ti piace proprio il coach, vuoi esagerare, ti iscrivi al canale. Ti ringrazio, aver guardato il video. E alla prossima, allenati bene. Ciao! Grazie a tutti. Non perdere mai la schiena, mai la schiena. Quindi sempre, chiudi forte sempre l'addome. Arce e push up, occhio. Attenzione al plank, chiudi forte. Chiudi sempre forte l'addome, non inarcare. Chiudi. Strizza, strizza anche i glutei. Ok, adesso abbiamo i limbs. Attenzione, rimani sempre vicino con la schiena. Di nuovo plank. Occhio. Si suda ragazzi, si suda. E sappiamo quello più duro. Plank in station. E l'ultimo è il plank. Attenzione, io poi concludo, ma tu continua per altri tre giri. Io ce l'ho fatta, quindi non ti rimane che provare. Ciao ragazzi, c'è un piccolo pensiero per te.